E' possibile che sui dipendenti che abbiamo nel Comune di Roma ci siano le file per la carta d'identità? E' possibile che il nucleo del decoro urbano sia composto da 21 persone che non hanno più le fototrappole o non hanno più, anzi hanno fatto i corsi per i droni e non hanno i droni? Ma qui non stiamo parlando di scienza termonucleare, io lo capisco il lavoro che fanno i tassisti di Roma ma non è che la città è governata dai tassisti di Roma, non è governata dai sindacati dell'Ama anzi purtroppo oggi lo è, ma non dovrebbe essere, non è governata dal sindacato dei vigili urbani non è governata dal sindacato dell'Atac e non è governata dal sindacato dei dipendenti pubblici è governata in nome e per conto dei cittadini romani, questo è il punto ed è il problema di Gualtieri lui di queste categorie è il perfetto rappresentante, è l'unica che non rappresenta i suoi cittadini romani ma che vuoi che sia, mica è un problema, mica l'hanno eletto loro noi abbiamo dato a Gualtieri 600 giorni, 600 giorni stando zitti adesso Gualtieri da parte nostra non avrà più un minuto non avrà più un minuto grazie a tutti